Salve a tutti amici, oggi vediamo come prendere la spada suprema su Zelda. Sta proprio qua al centro della foresta di Rula, è un'arma che vi consiglio assolutamente di prendere soprattutto per la battaglia contro Ganon. Ci ho messo una puntina, allora, teletrasportatevi alla torre della foresta possibilmente, ecco qua vedete dove sono, e da lì usate la paravela per andare verso la foresta. Ci sarà un problema, ovviamente, che la foresta avrà un percorso ben preciso da seguire, altrimenti la nebbia vi riporterà sempre indietro. Ho fatto un video su come attraversare e arrivare al centro della foresta, quindi vi lo lascio in descrizione, se avete problemi con la nebbia guardatevi quello, non sto adesso a rifare tutto il percorso del bosco perduto. Quindi a un certo punto arriverete al centro, e al centro troverete una spada conficcata in una roccia. Quella è la spada che esorcizza il male, è la spada suprema. Come fare per estrarla? Allora servono almeno 13 cuori, e servono 13 cuori rossi, non gialli. Quindi l'unico modo per avere più cuori è, ovviamente, affrontare i colossi e poi prendere tutti gli emblemi dei Sacrari, non tutti per forza però, 4 emblemi di Sacrari vi consentono di andare poi a pregare a quelle statuette che vi chiedono se volete un portacuore o un portavigore. Grazie a questo potrete ottenere 13 cuori, quindi consiglio di andare ad estrarla verso la fase finale della partita quando avrete esplorato un po' tutto il mondo di Hyrule e avrete preso un bel po' di cuori. Eccolo qua. Io adesso ne ho 14, se non sbaglio. Basta tener premuto A alla spada, e se abbiamo cuori a sufficienza verrà estratta. Altrimenti, niente, dovremo tornare. Ed eccola qua. La spada ha un attacco di 30, ma, se non erro, è più potente ancora quando viene usata contro Ganon. Inoltre, si può scaricare la spada e dovete aspettare 10 minuti per riutilizzarla, però è indistruttibile, questa è una cosa veramente ottima. Niente, quindi, spada suprema al centro della foresta di Hyrule, 13 cuori per averla. Un saluto a tutti. Grazie.